Mandorla! Mandorla! Oddio! Calmati! Caputana Matteo, mi faccio anche un colpo! Ma che fai qua? Che vuoi? Va bene, non mi importa, devo andare... No, no, ma che pensi? Io una dignità non ce l'ho! Io ti ho dato un'occasione, ti ho dato! Io ti ho fatto entrare in ufficio e ti ho trattato come una di famiglia! Ti ho ridato pure la passione per la professione! E tu che fai? Mi ripaghi così? Ma che pensavo? Io non lo scoprivo! Una venduta, sei questo, devo pensare! Vabbè, penso che lo ti pare Matteo, eh? Eh no, eh no, e stavolta non te ne vai, stavolta io e te parliamo qua! Perché io voglio sapere tutto ciò che tu pensi di me, ok? Di noi, siamo ancora con lei o no? Dimmelo! Vedi un futuro per noi? Che ne sarà, dimmi di te? Vabbè, che ti devo dire Matteo, eh? Che ti devo dire? Eh, scusami, non sei tu, sono io, eh? Mi hai preso un momento delicato della mia vita, eh scusa ma solo è difficile, eccetera, eccetera. Grazie, sei un uomo meraviglioso. Perdono, perdono, eh? Sono sicura che troverai qualcuno migliore. Te lo meriti. Ciao! Oh, chi c'è di là? Niente, non ho niente. Che pezzo è? Ciao! Grazie.